ahahah ahahahah mi riguarda i mori chissà ciao Aiu ciao Aiu benvenuti questa è la nuova puntata di tre napoletane su chat roulette in cerca di bubbu e poi niente vogliamo partire subito o si perché mi fa stelle ti ricerca a questo dai hai i tuoi mani iniziato si 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 Jack Nopile ha fatto una magia a scombarsi scambaro? scambaro è uscito un un caponga rock fermati ti fai la sci ma te la tuffa? no, fa la camera la sci che stai facendo? che stai facendo? non ti alzare fammi questa cortesia te la culo fuori eh, scusami no, vedi no, vedi no, vedi no, vedi no, vedi ciao, cappezolo allora, chi sta a casa in Italia? non sappiano tutti i casi che fa così cavolo che te lo chietà fuori ciao, già stai facendo? effettivamente, si ma stai mandando i bacetti vedi, c'hai una carciofola che esce dal cappello carciofo qual è il bagno? dimmi che allegri super raffaele no, questo è raffaele hop putt pesteopoly per la stampa due сним si prese bombe funelis africano word duo ban americano tubo pal americano ma con nati di tali senta me oggi ha prodotto a giocava una volta maruto must meet ok da licenziato maronna mia maronna mia maronna mia come stai abbronzando queste per le scute cowboy ecco a forza su quanto su quanto su quanto raffa raffa rap house raffa 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 mas la caca non vabbè uc è cagallo, è Peppe Senni, sono io è Peppe Senni dei movimenti Raperonzolo sei una principessa buonasera zio, a me se mi fate la panna ma mangio sicuro a me doppio strato di cioccolato vi ha lo stesso barbiere, tu e Raffaele barbiere, capelli, come lui non bocca a mamma tu le fai amicizie testa di cazzo è una bella mamma mia la momentica del momento zizze por favore che cazzo che teneva l'accappatoio sotto se ne hai fatto sciambe io man i show you questo è crash non ti leccare la bocca che è la legge? viva il vendetta viva il vendetta c'è proprio un gabbiano camanda 1,2,3 1,2,3 1,2,3 continuate 1,2,3 1,2,3 oh frate è pesena è pesena è pesena si si guarda questo che cazzo di testa c'hai me lo spieghi? non lo sai è pesena è pesena buona sera buona sera buona sera ciao non te ne andare non te ne andare lo nascondiamo non lo guarda e che cazzo fai? ma voi chi siete? il volo chi va? il volurco il volurco la colunghi io vuoi andare alla colunghi andiamo tutti quanti ci vuole chiede se va bene mi lascia hanno bussato ci dopo chi è? e mangarà e che? andone ciao ciao sono Giambattista Maggi ti ricordi di me? guarda superito su un buon e buon su un momento ci scopette mia mamma i miei amurti ci scopette mia mamma i miei amurti ci scopette mia mamma i miei amurti vai 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 tu ti fai sghane sghane no 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 non faccio il pranzo non le campane ma che cos'è? una mano ma da dove esci? forse sta di profilo e si sta aggrattando il naso ma che cosa va? assettato di ciullo stai ripetendo il forno ma poi è la tensione a livello quasi chi l'arriva vinto film lo squizzava pure un gol cosa sono? un nuovo due calze ma ci paranno ma la due è quello di prima è quello di prima che tenevo cortisone secondo questo è quello di Denise dai dai whatsapp lo tengo tu tieni io vengo prozapp vuoi trovare pure su prozapp? faccio il freestyle faccio la faccia bianca fare la maionese si bello tu con la giacca rete a te appeso veramente frate a me l'improvvisazione con la giacca non si chiuda io ti fai un po' l'improvvisazione con il mio dico continuo con il rapido scatendo panica frate ti fai male attacca da stumanica italiano non ma si davvero male ti fai più C'era chissà? Ma che io? Ma Strollino stai piano vero? Dopo lui lo casco, non ci stanno io guarda? Nooo! Ti stai sbocciolando il sgaduglio eh! Ma chi è? Cosa stai a fumare? Guarda, tieni un pizze 300 E poi che ti hai fumato i giardini e i nonni? Ma ti hai fumato pure i capilleghi? Stai variando, sei venuto a fare seno eh? Ma io non hai capito a capi dall'infu Non puoi mai andare a facciandare, tu stai rientro Ahahahah! Abbiamo qui l'anore di El Villiru! Buuuu! Buuuu! Ciao bimba! Ciao! Buongiorno! Hai visto che... Hai visto che coca russa? Scusa! Non nascondiamoci! Non nascondiamoci! Piccola! Ti porto un pupazzo! No me no! Figliasino! Ha capito eh? Guarda, guarda! Ma ci ha fatto! Il cane! Hai visto? Guarda il cane, Snoopy, la Wallara, vedi? Ma c'è tutto! Ma dove è lì? Fanno la chiamata zio! Ma, ma, ma… Ma Robazzi ha fatto il cosmo tramite la Burgazza? Ma troppo, ma… Moment, moment! usposti! Sei guanto appaginì! Sei! Sei guanto un anno che faccio 50 hispes Che faccio un alla loro Lane? Non posso fare una banca. La ... E tu proprio farà un batteo risparmio energetico, basta. Eh, avevi una casetta piccolina in carattà, con tanti fiovellini standecotte di lì là, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in carattà. È partita coiore. Oto a toppo, lo po' po'. Questo non ci dico, non è facile. Sergio Camarire. Stai veramente molto bionda. C'hai i capelli color biondo. A me piace una bionda coi capelli neri. Chi 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 chi? C'ha incastrato Peter Pan. Co 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 co. Cosa è stato? Chi lo sa? Che cosa c'è? Può che mette? Non devi giudicare un'azienda che non conosci. Se tu giudicare un'azienda che non conosci, io penso che tu non sei una persona bella. Se Antonio Bo facessero un film giudissimo, mi dico un piacere. Allora te lo dico io. Non sei una persona bella. Ti faccio i video per ballare. Tu non hai fai i video per ballare. No no, faccio i video per ballare. Metto i zessi. Ti capito? Ti voglio dire che tu non sei nessuno per giudicare perché mi hai giudicato o giudicato. Ma tu vuoi giudicarmi? Tu vuoi giudicarmi a me? A me o ti devo giudicare a te? Chi devi? Se hai giudizio, non lo fai. Che dai? Allo spazio in me. Giudice ti faccio. Però devi ballare. Vabbè noi veramente abbiamo cercato fino all'ultimo, insieme a lui che sta guardando vedere questo, che sta guardando il cellulare. Sicuramente ci vediamo a breve con il nuovo chatroulette perché stasera ci siamo un po' divertiti. Nel frattempo lui ci sta vomitando addosso. Questo qua. Della serie. Ciao. Ciao signor Carbonella. È sempre quello di lui. Si si. Ci vediamo a brevissimo con un nuovo chatroulette. e vi ricordo con la musica di sottofondo, togliamola. E vi ricordo che vi vogliamo bene e che va a fai moccan mamma e te sto a me mergo. Ci vediamo al prossimo chatroulette. Ci vediamo a noi. Sì. Sì. No, infatti. Sì. Sì. Ciao a you.